Sabato 21 settembre, nel funzionale comprensorio dell'ippodromo SNAI La Maura, si svolgerà l'asta selezionata e qualificata SGA per gli yearlings. L'inizio delle licitazioni è previsto alle ore 12, con i 152 lotti fili dei più importanti stalloni europei. In catalogo, più di 30 fili di vincitrici o piazzate di gruppo e listed, più di 35 fratelli e sorelle di vincitori di gruppo e listed e 30 primi prodotti di famiglie classiche o black type. Si ricorda che ai cavalli italiani in tutte le corse per i due anni viene riconosciuto un premio aggiunto del 60%. Ci sono 152 bellissime ragioni per acquistare un cavallo italiano, trascorrendo un meraviglioso lungo weekend milanese con un venerdì col Gran Premio delle Aste, che avrà un monte premi di 90.000 euro, di cui 17.000 verranno distribuiti sotto forma di buoni spendibili il giorno dopo alle Aste del Sabato e con la Domenica Stellare sempre a San Siro con i gruppi 3 del Federico Tesio, del Sergio Cumani e del Premio del Piazzale. Le Aste di Poliedri 2019 sono organizzate da SGA in collaborazione con la società ITS. Asta selezionata e qualificata 2019 cavalca il sogno di comprare un campione. Grazie per la visione!